benvenuti in questa guida top 7 macchine da caffè manuali di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo gaggia ri 8525 01 macchina da caffè manuale con portafiltro pressurizzato 100% prodotto in italia due filtri inclusi vediamo la nostra valutazione la qualità generale raggiunge 5 stelle offerta imperdibile grazie allo sconto per funzionalità diamo 5 stelle eccezionale il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 75 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo di onghi scultura macchina del caffè espresso a pompa scultura dalla finitura laccata bianca con dettagli cromati pressione a 15 bar e caldaia in acciaio inox ecco cosa pensiamo un'eccellente qualità generale imbattibile l'offerta a prezzo scontato con caratteristiche ottime risulta tra i top nel rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 79 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo l'elite pl2 sv h2 per utenti professionali ristoranti esclusivi e piccoli pub caffè espresso di qualit cappuccini fantastici caff americani tea e tisane vediamo la nostra valutazione la qualità generale raggiunge 5 stelle estremamente convincente l'offerta con caratteristiche quasi al top assegniamo 4 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 82 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare di onghi icona macchina del caffè espresso a pompa icona vintage dalla finitura beige con dettagli cromati pressione a 15 bar e caldaia in acciaio inox vediamo il nostro parere nella qualità generale assegniamo 5 stelle estremamente convincente l'offerta per le funzionalità raggiunge 3 stelle nella media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 86 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo gaggia giorni 2016 macchina da caff manuale con portafiltro pressurizzato prepara una o due tazze alla volta di caff macinato vaporizzatore in acciaio inox vediamo la nostra opinione una discreta qualità generale un'offerta da cogliere al volo con particolari caratteristiche sommariamente ottimo il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 89 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo gaggia ri 8433 11 macchina da caff manuale con portafiltro pressurizzato prepara una o due tazze alla volta di caff macinato due filtri inclusi ecco la nostra valutazione qualità generale davvero eccellente 4 stelle per l'offerta del momento per le funzionalità raggiunge 3 stelle 3 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 92 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica di onghi dedica macchina del caff espresso a pompa dedica interamente in metallo e compatta nelle dimensioni solo 15 centimetri cappuccinatore grazie al ecco il nostro parere la qualità generale raggiunge 3 stelle 4 stelle per l'offerta del momento per le funzionalità raggiunge 4 stelle per il rapporto qualità prezzo diamo 5 stelle il punteggio è di 98 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al